Diario di Bordo, data astrale, ottavo giorno, diario del Capitano, ore 16.35, Roma, innanzitutto confesso di non aver mai imparato a leggerlo a roggio, vabbè quindi così. In questo momento siamo a casa di Sandro Perri, questo individuo come al solito, che come vedete ha ormai cambiato look ed è un uomo nuovo, bellissimo, affascinante, una persona profonda che incide sull'animo umano. E qua abbiamo Nicole, chi è la tua amata? Salutiamo Francia, no è un'altra amata, ok. Sono a casa di amici. Dopodiché salutiamo i master. Sì, in generale. Tutto a posto. Stiamo vedendo Kickass, un film a volte istruente e qua ci sono io. Non è una parola istruente. Istruente non è una parola italiana. Non lo so, domani dovrebbe essere una postizia insegnata. Io sono nato insegnato. Non vedete il giorno, domani mattina ho visto la casa di Marco a portare i regalos. Eh sì, è vero, è roccoricato. Eh, ciao vuoi. Eh. Detto questo, sul bellissimo logo di Anno Milla e sfumiamo. Eh, lo so. E diamo i saluti al prossimo aggiornamento. Diario del comandante, ottavo giorno, data astrale. Ore 16.45. Roma. Arrivederci.